Ciao! Benvenute e benvenuti in questo nuovo video tutorial in cui imparerete facilmente le regole di Atelier, in cui come artista cercherai di realizzare più dipinti possibili prima degli altri. Ora andiamo a vedere le sue semplici regole e anche la sua variante per esperti e come ogni gioco della Red Glove si riassume in tre semplici passaggi. Gioca le tue carte, combina i colori, dipingi le tele. Vediamo la preparazione. Prendi tutte le carte e metti da parte le cinque carte obiettivo. Tutte le altre puoi mischiarle insieme e formare un mazzo di pesca a faccia in giù da mettere al centro del tavolo. Scegli il primo giocatore, che può essere colui che per ultimo ha visitato una mostra d'arte o museo, oppure scegli casualmente. A partire da lui ogni giocatore pesca un numero di carte secondo il seguente schema. Quindi pesca otto carte e mettile a faccia in su al centro del tavolo in questo modo e tieni nell'area di gioco la tabella dei colori secondari che si trova dietro il regolamento. Metti nell'area di gioco le carte obiettivo. Il gioco si svolge in turni e partendo dal primo giocatore e proseguendo in senso orario. Ogni giocatore svolge il suo turno fino a che non si raggiungono le condizioni di fine partita. A quel punto si continua a giocare fino al giocatore alla destra del primo giocatore e infine si contano i punti vittoria. Nel tuo turno devi decidere se prendere carte o giocare carte dalla tua mano. Se peschi carte puoi farlo in questi modi. Puoi prendere due carte scoperte vicine tra loro, oppure puoi prendere due carte coperte dalla cima del mazzo, oppure puoi prendere una carta coperta dal mazzo e una scoperta, nell'ordine che preferisci. Quando prendi carte scoperte da qui devi sempre rimpiazzarle pescandole dal mazzo. Ricorda che non puoi avere più di dieci carte nella tua mano e se ciò accade devi scartare fino a tornare ad averne dieci. Qualora il mazzo si dovesse esaurire, rimischia la pila degli scarti. Prima di vedere come si giocano le carte diamo un'occhiata a come sono composte. Esistono tre tipi di carte, le tele bianche, le tele disegnate e le tele dipinte. Su ogni carta trovi un colore che sarà a te disponibile quando hai questa carta in mano oppure nella tua area di gioco. Qui di lato invece il costo in colori per poterle giocare nella tua area di gioco. È riportato due volte a destra e a sinistra solo per comodità. E il costo si deve pagare solo una volta. Questi simboli indicano una tela bianca, una tela disegnata o una tela dipinta. Quando giochi carte dalla tua mano e puoi giocarne più di una purché dello stesso tipo devi pagarne il costo indicato qui di lato e puoi farlo nel seguente modo scartando dalla tua mano delle carte che in alto indicano il colore necessario e utilizzando le carte che hai nella tua area di gioco che indicano il colore necessario. Le carte scartate vengono messe in una pilla degli scarti mentre le carte che utilizzi dalla tua area di gioco ruotale leggermente verso destra o verso sinistra per indicare che sono state utilizzate. Ad esempio Federico vuole giocare questa carta e ha bisogno quindi dei colori bianco, magenta e due neri. Ruota quindi dalla sua area di gioco queste carte che hanno i colori necessari qui nella parte alta e scarta dalla sua mano questa. Pagato il costo la mette nella sua area di gioco. È importante tenere a mente i tipi di carte e come giocarli. Le tele bianche sono la base per tutte le altre carte e se ne possono giocare fino a un massimo di tre nel proprio turno. Le tele disegnate possono essere giocate solo sopra delle tele bianche nella tua area di gioco e se ne possono giocare un massimo di due nel proprio turno. Le tele dipinte possono essere giocate solo sopra una tela disegnata nella tua area di gioco dello stesso tipo ovvero che ha lo stesso disegno e se ne può giocare un massimo di una per turno. Queste in particolare come puoi vedere hanno dei costi in colori un po' diversi che sono definiti colori secondari. Per giocare queste carte e ottenere quei colori bisogna giocare una combinazione di carte dalla propria mano e dalla propria area di gioco. Come indicato nel retro del regolamento per ottenere ad esempio il rosso dovrai giocare due carte con questi colori prese dalla tua mano e o ruotando quelle nella tua area di gioco. Esistono anche delle carte jolly che possono essere giocate solo scartandole quindi non finiranno mai nella tua area di gioco. Vengono utilizzate per pagare il costo di altre carte e coprono il costo di un colore tra quelli mostrati. Queste carte jolly però non possono essere utilizzate per creare colori secondari. Quando scendi nella tua area di gioco una tela dipinta se sei stato il primo giocatore a completare quell'opera questa è definita originale. Tutti gli altri dipinti dello stesso tipo che verranno realizzati successivamente sono considerati dei falsi e la carta dovrà essere messa sotto sopra per indicarlo. Le carte obiettivo rappresentano dei traguardi che possono raggiungere i giocatori ma solo il primo che completa uno di questi obiettivi potrà prendere la carta, metterla nella propria area di gioco e ottenere i punti a fine partita. Al termine della partita che avviene come accennato prima in questi casi e dopo aver giocato fino al giocatore alla destra del primo giocatore si calcolano i punti vittoria. Ottieni i punti per le carte nella tua area di gioco, 4 punti per ogni tela dipinta originale, 3 punti per ogni tela dipinta falsa, un punto per ogni tela disegnata, perdi un punto per ogni tela bianca e ottieni i punti per gli obiettivi che hai completato. Chi ha più punti è il vincitore e in caso di parità chi ha più tele originali. Se la parità persiste chi ha più tele false e se persiste ancora chi ha più disegni e se è ancora in parità condividete la vittoria. Tieni presente però che si contano solo le carte visibili e non quelle sotto i disegni o sotto i dipinti. Vediamo ora la variante per esperti. Se vuoi una partita un po' più complessa cambia la regola per la creazione dei colori secondari. In questo tipo di partita questo tipo di colori si possono creare solo ruotando le carte con i colori necessari che si trovano nella tua area di gioco e solo se questi colori sono in una coppia tela disegnata tela bianca sovrapposti l'uno sull'altro. Inoltre potete anche decidere di cambiare il metodo di pesca e potete scegliere di aggiungere questa regola a prescindere da quella precedente. Potete pescare due carte adiecenti scoperte oppure pescare due carte dal mazzo. Non potete quindi pescare una carta scoperta e una carta coperta. Complimenti! Ora sai come giocare a Atelier!